Nulla di fatto dietro l'entusiasmo di facciata alla riunione dei paesi aderenti all'OPEC. Facendo leva sul recupero dai minimi di inizio anno del barile, l'organizzazione dei principali produttori di petrolio ha stabilito che non ci sarà alcun taglio della produzione, nonostante il livello attuale del prezzo attorno ai 50 dollari non venga ritenuto soddisfacente. E nemmeno la reintroduzione di un tetto collettivo in visa al ministro degli esteri iraniano Bijan Zanganè. L'Iran vuole una quota del 14,5%, decisamente troppo per gli altri aderenti. L'organizzazione non pare in grado in questa fase di incidere, ma nemmeno vuole abdicare. Non badate a questa voce che l'OPEC sia morta. L'OPEC è viva e avrà un ruolo molto importante nell'economia mondiale. Ultime parole da segretario generale facente funzione, dato che almeno dopo quattro anni di tentativi a vuoto è arrivata la nomina del nigeriano Mohamed Barchindo. Altra novità è il riaccoglimento del Gabon, che porta i membri alla quota record di 14. In quanto al mercato ha reagito facendo perdere al barile oltre l'1% nella giornata, segno che l'OPEC riesce ancora a influenzarlo, ma forse non proprio come vorrebbe.